E' lì La porta al comando a sua volta Dai Lullu dai Lullu Pagarelli con Pagarelli alle sue spalle Balagussa Gatti e Vitao Passaggio con la Campana E' Pagarelli che attacca all'esterno Mentre all'interno si fa viva Balagussa che prova Con Giulia Corsini all'interno E' il 4 finish 4 finish Per capire chi è l'età E' il 4 finish E' il 4 finish